Lentamente il giovane Mantova di Juric prende forma. Ad arco di Trento nella seconda uscita stagionale sei reti contro il Brasil Soccer Tour, rappresentativa formata da giocatori di belle speranze, qualcuno già sui taequini degli osservatori. I biancorossi primo a fondo vanno a segno. Punizione di Fortunato, tra i notti non impatta, ma siniscalchi sì. Ridmi tranquilli, manovra non proprio fluida e qualche incertezza difensiva, ma il team brasiliano non ha la giusta malizia per approfittarne e paga forse la stanchezza delle tante partite giocate in pochi giorni, cosicché c'è lavoro anche per festa. Al ventitresimo il Mantova raddoppia, traversone di Blavve, Chelo arriva col tempo giusto. I tifosi, non molti a dire il vero in questo giorno feriale, aspettavano di vedere all'opera Raggio Garibaldi ed eccolo qui, a creare e a concludere a rete in collaborazione con Masini e nel finale di tempo Manarine trova il corridoio giusto per l'invito a Tomicic. 4 a 0. Per quanto riguarda la ripresa, dopo aver sottolineato la prodezza di festa su sinistro al veleno di Romario, ecco le due reti che hanno reso il punteggio più rotondo e che portano la firma della vecchia guardia. Olivi, su calcio d'angolo, è il più rapido di tutti, quindi dalla stessa bandierina, liscio generale e Zanetti deposita nel sacco un destro facile facile.